In questa puntata di Diamoci del Noi incontriamo Valerio Corghi. Ciao Valerio, benvenuto. Ciao Edoardo, grazie. Oggi responsabile delle associazioni di volontariato nuovamente e per otto anni membro del coordinamento regionale immigrazione di Caritas Emilia-Romagna e una precedente anche esperienza proprio nella Caritas per 25 anni a occuparsi di accoglienze, di relazioni. Relazioni che sono entrate anche nel libro del motivo per cui incontriamo oggi Valerio, appena pubblicato per le edizioni San Lorenzo e preso un asciugatoio. Qui Valerio ti sei trasformato in giornalista, hai dialogato con personalità illustri, nominiamo già da subito il cardinale Matteo Maria Zuppi e il tema è proprio quello delle relazioni di ascolto, di accoglienza, viste, se capisco bene, non per categorie, i poveri, gli immigrati, ma andando al cuore delle persone. Non so se ho letto bene. Sì, hai letto molto bene il senso di questo libro partendo da due aspetti fondamentali, il testo del Vangelo della Lavanda dei Piedi trasportato in questi 25 anni di servizio in diocesi a Reggio che si sta prolungando appunto nell'associazione di volontariato nuovamente che ha sempre delle attenzioni con la nostra Caritas diocesana. E questo è stato proprio lo spunto e il connubio per poi fermarmi, sostare un attimo e di punto in bianco provare un po' a scrivere la bellezza di questa esperienza. Allora, io ho nominato il cardinale Zuppi, oggi presidente anche della conferenza episcopale italiana, come è nato il tuo rapporto con lui, il tuo dialogo con lui e di che cosa avete parlato nel libro? Ci siamo conosciuti nel corso degli anni per il rapporto con le Caritas diocesane, il coordinamento regionale immigrazione di cui Edoardo prima appunto parlavi nella presentazione, aver condiviso alcuni aspetti formativi e l'idea di poterlo andare a incontrare. Quindi poco più di un anno fa in Curi Arcivescovilla Bologna ci siamo confrontati, presentato il piccolo progetto editoriale e da padre qual è? Dicendo lo faccio mio abbiamo iniziato proprio questa condivisione insieme che poi ha dato là al libro. E oltre al cardinale con cui avete parlato anche di fede politica, giusto il tema principale è quello del colloquio, altri collaboratori e interlocutori ce li vuoi presentare per questo libro? Sì, con il cardinale Zuppi appunto abbiamo trattato del tema fede politica con due docenti universitari della Cattolica di Milano Chiara Panciroli e Maurizio Ambrosini abbiamo condiviso tutto il tema dell'accompagnamento alle comunità e a tutto il tema legato appunto all'immigrazione. con un collega e grande amico Matteo Gandini il tema legato al sinodo appunto voluto da Papa Francesco con i suoi prolungamenti anch'essi sul tema delle comunità parrocchiali, con il professor Valerio Quercia la metodologia del colloquio motivazionale, quindi la relazione di aiuto, come porsi di fronte alle persone che alle volte ci portano alle loro difficoltà e i loro problemi, con Enrico Barchi medico avere cura, prendersi cura anche la luce di un periodo molto particolare che ancora oggi viviamo che è quello legato appunto al Covid. Quanto è importante il servizio appunto nell'icona anche della lavanda dei piedi, nelle relazioni di tutti i giorni, da quelle di genitore, se il padre di Martina e Mattia, oltre che marito di Emanuela, a quelle con i colleghi di lavoro, a quelle appunto con i poveri, gli estranei che incontriamo e che magari non conosciamo mai bene fino in fondo. Emerge, grazie Edoardo per la domanda, emerge anche appunto dal libro, servire è determinante, è un atto gratuito, è un atto dove ci sembra di dare veramente tanto all'altro, ma sicuramente molto più quello che noi riceviamo di quello che siamo appunto in grado di dare, è un connubio determinante per la crescita della nostra fede e dei vari risvolti che giorno dopo giorno possiamo reciprocamente dare e ricevere con le persone che incontriamo. Ti sei chiesto nella stesura del libro come sarebbe oggi il gesto della lavanda dei piedi compiuto da Gesù? Come si può attualizzare questo gesto anche per chi ci sta seguendo che magari non ha ben presente quell'episodio dell'ultima cena? Io penso che sia come tutto il Vangelo l'ennesima icona moderna, quindi anche oggi quel cattino, quell'asciugatoio, quel gesto, quel piegarsi, quello stare in prossimità lo possiamo vedere e scorgere nei gesti di tutti i giorni, delle persone comuni, di chi anche non sotto i riflettori o in chissà quali altri modi e maniere serve l'altro e con molta dedizione, con tanta gioia, anche col sorriso si mette proprio nei confronti di chi è meno fortunato, pensiamo a chi fatica nel mondo del lavoro, chi fatica nel poter condurre la casa, soprattutto chi fatica nelle relazioni che spesso portano solitudine, fatica, abbandono, ma c'è sempre qualcuno pronto nel lavarti e nel lavarci reciprocamente i piedi a prenderti per mano e a fare quel tratto di strada insieme per poter continuare ad apprezzare un valore bellissimo che è quello della vita. Prendo dal retro di copertina una frase e ti chiedo un commento in conclusione del nostro incontro, c'è una domanda, forse qui è il cardinale che parla o sei tu, che mi ha sempre interrogato, è il cardinale Zuppi, dice il santo di Assisi arrivò alla conversione per il suo incontro con il crocifisso di San Damiano o per il suo incontro con il lebroso, punto di domanda, cioè carità e fede mi sembra di capire sono strettamente connesse, così anche nella tua esperienza. Assolutamente sì, in un'esperienza dove sono sempre molto grato di poterla avere vissuta, di continuarla anche oggi a viverla, dove il servizio, la prossimità, il toccare anche con mano certe dinamiche sicuramente fa crescere la fede, all'interno della cui relazione il fermarsi, il pregare, il condividere la quotidianità e il mettersi al servizio uno con l'altro proprio ti fa maturare e ti fa continuare a percorrere il cammino che sei chiamato a portare avanti. Grazie Valerio per le tue parole, per il tuo libro e perché no potete andarla a trovare nuovamente continuando questo dialogo che ricordiamo è un'associazione che dà nuova vita prima ancora che agli oggetti proprio alle persone che vi girano intorno, che vi lavorano come volontari o come utenti, anche se la parola è brutta. Grazie ancora Valerio. Grazie a voi. E con il nostro pubblico ci diamo appuntamento alla prossima puntata.